Il coronavirus ha messo a dura prova anche i rapporti tra comuni confinanti nel Vallo di Diano. Le polemiche suscitate nei giorni scorsi dalle ordinanze restrittive verso Sala, Atena, Polla e Caggiano, messi in isolamento dalla regione, hanno raggiunto il culmine dopo che il primo cittadino di Piaggine ha vietato l'approvvigionamento in tali località e quindi ha imposto a tutte le attività economiche del suo territorio di non rifornirsi presso i distributori di questi quattro comuni. Una decisione che è stata duramente criticata dalle amministrazioni in questione, dal consigliere di minoranza di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, e ha visto anche una presa di posizione del presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, che pure, come sindaco di Monte San Giacomo, aveva imposto ai suoi cittadini di non recarsi più nella zona rossa valdianese, appena la quarantena. Alla fine era intervenuto il prefetto di Salerno, definendo illegittime le ordinanze che escono fuori dal quadro normativo di provvedimenti statali e chiarendo che non possono essere adottate ordinanze sindacali contingibili e urgenti volte a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Il sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo, dunque, di fronte a questa levata di scudi, ha fatto un passo indietro cercando di soppire il clamore. Stamane ha pubblicato un chiarimento all'ordinanza da lui emessa con cui non ritira il provvedimento, che sottolinea essere stato assunto in virtù proprio dell'ordinanza della Regione, ma spiega i motivi che lo sottendono, ossia la ripetuta contravvenzione delle norme sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nello svolgimento delle attività inerenti al rifornimento dei generi alimentari di prima necessità. L'ordinanza in questione, si legge nella nota che Vairo ha scritto ai sindaci dei quattro comuni e al presidente della comunità montana, non aveva l'intento di vietare l'approvvigionamento in quanto tale, bensì l'attività suddetta compiuta senza dispositivi di protezione. In tale senso si precisa che l'amministrazione di Piaggine inviterà le forze di polizia territoriali ad attivare il necessario monitoraggio degli ingressi, al fine di consentire l'accesso nel territorio comunale per gli scopi e nelle forme consentite dalle disposizioni statali e regionali.